Il dottor Lucia è di nuovo in prigiole e il museo è distrutto, cosa dovremmo farne di questo? Beh, se fossi in te probabilmente non ci giocherei. Tranquilla, Corvina. Già, cosa ti nervosisce tanto? Io sono calma. Oh, beh, scusa. Dalle tue intonazioni è difficile capire cosa provi davvero. Io la smetterei di passarvi quell'affare come fosse un pallone. Devi calmarti, capito? Sei completamente fuori controllo! Oh, non sei arrabbiata? Sei almeno entusiasta per la grandiosa sconfittata del dottor Lucia, sì? Era entusiasmo oppure solo il tuo caratteristico uso di un saccasmo? Ragazzi, questo affare si è appena attivato, almeno credo. Prendila tu, non lo voglio. Ti adoro questo gioco!